A distanza di quattro anni dalla sua inaugurazione, dal santuario della spogliazione di Assisi, parte un ulteriore impulso per una economia solidale e fraterna, con l'istituzione del premio internazionale Francesco di Assisi e Carlo Cutis per un'economia della fraternità, annunciato in occasione della beatificazione dello scorso ottobre. Abbiamo letto, facciamo un'iniziativa che abbiamo chiamato premio internazionale Francesco di Assisi e Carlo Cutis per una economia della fraternità. Il premio, nato per promuovere un rinnovamento dell'economia all'insegna della fraternità, a cominciare dalla condizione e dagli interessi dei più umili e disagiati, nell'edizione inaugurale che si terrà sabato 15 maggio, sarà assegnato all'istituto serafico di Assisi in occasione del 150esimo anniversario dalla sua fondazione. La consegna del premio sarà preceduta da un momento di riflessione online che inizierà alle ore 16 e si concentrerà sul tema Un'economia della fraternità nel post-pandemia. Il sindaco di Assisi, Stefania Proietti, aprirà l'evento che vedrà la partecipazione di Simona Sala, direttrice Rai Radio 1 e giornale Radio Rai dell'imprenditore Brunello Cucinelli, di suora Alessandra Smerilli, economista e sottosegretario del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umane Integrale per il Settore Fede Sviluppo e della Presidente dell'Istituto Serafico, Francesca Di Maolo. Alle ore 17 e 30 seguirà la presentazione e consegna del premio con la relazione del Vescovo Domenico e le conclusioni online del Ministro per le Disabilità, Erika Stefani. La due giorni si chiuderà domenica 16 maggio alle ore 11 nel Santuario della Spogliazione Chiesa di Santa Maria Maggiore, dove si terrà la celebrazione eucaristica presieduta dal Cardinale Raniero Cantalamessa, teologo e predicatore della Casa Pontificia. L'evento di sabato e la Santa Messa saranno trasmessi in diretta su Maria Vision, canale 602, sui canali social della Diocesi e Santuario della Spogliazione, Facebook e YouTube, sul sito www.diocesiassisi.it e su quello del santuario assisisantuariodellaspogliazione.it. Grazie a tutti.